250 caditoie da pulire e disostruire ogni settimana, quartiere per quartiere, secondo un ordine di priorità. Il Comune di Pesaro decide per un giro di vite a contrasto dei facili allagamenti alle prime piogge, figli di una manutenzione non adeguata e lancia un nuovo piano di pulizia dei tombini presenti sul suolo pubblico. Io ho chiesto a Marche di Multiservizi di mandarci ogni settimana, ogni giovedì, un report di dove saranno, o meglio, un programma di dove saranno fatte le pulizie della settimana successiva, in maniera tale da poterlo comunicare ai cittadini. Biancani precisa che non sarà un intervento estemporaneo, ma una scelta programmatica destinata a durare negli anni a venire, organizzata di concerto con Marche Multiservizi per intervenire anche su tubature ostruite. Ogni giovedì voglio un report insieme all'assessore Emilia della Dora e ogni fine settimana faremo un comune di recato stampa per avvisare i cittadini, quindi le varie comunità, di quelle che saranno le strade interessate dalla pulizia del caritoio. Ovviamente chiediamo anche una maggiore sensibilità da parte dei cittadini, nel senso che nel momento in cui sanno che la loro strada è interessata, se evitano di mettere comunque la macchina, ovviamente riusciremo a fare un lavoro migliore. Ovviamente saranno previsti i cartelli necessari qualora ci sono tante le macchine che sono previste in una strada in una determinata fascia oraria. Il calendario delle pulizie sarà divulgato a giorni e intanto il comune si impegna all'intercettazione di risorse utili ad un'operazione che dovrà giocoforza rivedere alcune voci delle bilancio dell'amministrazione.